Villa Condoleo è iniziata la festa dopo il corteo le associazioni stanno distribuendo dolci e cioccolata calda mentre la gente il signor Salvatore Pisano è desiderato vicino alla palma perchè il figlio è caduto Salvatore Pisano il signor Salvatore Pisano Grazie a tutti Siamo con Angela Pingitore, Presidentessa dell'Associazione Alsa Minore Ci dici qualcosa su questa manifestazione? Oh, è bellissima, è stata una cosa fatta così all'improvviso ma è stata per me una cosa bellissima E ci parli un attimo della tua associazione? La mia associazione è nata un po' di anni fa però adesso finalmente ci siamo messi in moto con tanti volontari, tanti e tanta voglia di fare Lo scopo? Lo scopo è quello di sostenere le famiglie, vanno a scarico, vanno a scarico, vanno a scarico, vanno a scarico Ciao 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 Eccole, volontari della unità alti, dell'ossa minore che distribuiscono dolci a tutti i presenti Grazie